Si chiama Primica, la favola preistorica scritta dai bambini dell'Istituto Comprensivo 4 di Torrevecchia Tiettina che ha convinto la giuria dell'ottava edizione del Talent Letterario Nazionale Amici del Viandante. La serata conclusiva che si è tenuta al Museo delle Genti d'Abruzzo a Pescara è stata presentata dalla giornalista Gigliola Edmondo. Il sogno di Primica è una fiaba didattica, la definirei fiaba didattica perché è nata in una classe e quindi abbiamo letto, analizzato diverse fiabe, fiabe tradizionali, fiabe della tradizione popolare, cioè fiabe anche le fiabe classiche. Poi alla fine abbiamo deciso di scrivere la nostra fiaba originale, la fiaba di classe e qui diciamo che il percorso di scrittura si è collegato a storia ed educazione civica e quindi poi piano piano, giorno dopo giorno, è nata la fiaba. Per la sezione Editi si è distinta Maria Letizia Mancusa, autrice romana. Il premio per il miglior racconto inedito è andato alla pugliese Giordana Facchini. Questi bambini, questo entusiasmo, questi autori, una giuria sempre molto attenta grazie alla abruzzese fuorisede, insomma tantissimi ingredienti, forse è difficile dire perché un piatto è buono, no? Ecco, credo sia importante scegliere ingredienti di prima qualità. La giuria che ha selezionato i manoscritti è stata presieduta da Gino Bucci, meglio noto come l'abruzzese fuorisede autore di una raccolta di rime definite tuscibili, a dirla bene, discutibili, che hanno avuto già l'apprezzamento di larga parte del pubblico. Io non sono molto adatto a stare sul palco, quindi magari mi sono anche vergognato un po', però è stata veramente una bella serata di grande qualità anche le presentazioni. Per il resto sì, anche nel mio caso, io ho sempre scritto digitalmente, però il cartaceo comunque ha un'altra forma, un altro modo anche di entrare nelle case delle persone, quindi è stato bello farlo. Non esiste talent che si rispetti senza musica. È stata molto gradita da grandi e piccini la partecipazione del 17enne marchigiano Francesco Simoncini, apprezzato finalista del Cantagiro. Grazie a tutti.